Anche in condizioni normali non sarebbe possibile vederlo perché i musei sono affollati, le mostre sono affollate e in realtà qui c'è questa unicità come averlo a casa ed è un rapporto molto particolare, molto più impressionante di quello che sembra. Le persone resteranno stupite e l'altra cosa che diciamo è portateci bambini perché di solito i bambini restano ossessionati da queste mostre molto lunghe che non riescono a capire, ecco se li vogliamo riavvicinare l'argomento si riesce a raccontare bene e i bambini ne saranno contenti. Grazie